TikTok sfida del palloncino! Sì! Nessuno è più veloce di me! Letto come una tartaruga! Ragazzi, giochiamo insieme! Lascia i palloncini! Dovremmo registrarlo! Registra questo, il rosso sta vincendo! No, giochiamo con la mia casa delle bambole! Oddio, Casey! No, hai distrutto la mia casa! Non è rimasto niente! Te l'avevo detto di lasciarci in pace! È colpa tua, Casey! Ok, addio perdente! Questo è ciò che io chiamo un ballo senza panni! No, devi! Oh no, i miei doppi! Casey, perché non bussi prima? Voglio una nuova casa o andrò dalla mamma! Cosa? No, non esiste proprio! Duello con lo skateboard! Che cosa? Oh, mi sono esercitata! Che cosa? Conosco le tue mosse! Non tutte! Vola iPhone! Vuoi dire? Chiamala mamma! No! Va bene, va bene, va bene! Lo farò! Ok, sto attaccando! Mostro! Costruiamo qualcosa che la tenga lontana! E bisogna finire prima della festa di Roxy! Questo va qui! Che ne dice di essere una rockstar? Concetti gratuiti per le tue bambole! Tom, non è una cosa quella! Bene! Ho una nuova idea! Anche se devo ammettere che la chitarra era fantastica e molto più figa! Oh, guarda, Casey! Un tuo nuovo amico! Tom, una casa! Ok! Niente più idee fantastiche! Costruirò la tua casa delle bambole! Questi dovrebbero bastare! Ora del nastro adesivo rosa! Qualche colpo di martello! Ed è... Pronta! Non dovresti cadere! Oh, che ne pensi, Casey? Casa di Casey! Oh, quello cos'è? Chiamerò la mamma! No, no! Aspetta, aspetta, aspetta! Farò quello che vuoi! Tom, che cosa stai facendo a tua sorella? Volevamo dirti quanto ti vogliamo bene, giusto Casey? Sì, ti vogliamo tanto bene, mamma! Oh, vi amo entrambi! E ora voglio la mia casa! Bene! Voglio una casa! O chiamerò la mamma! Si crede così intelligente! Cosa c'è che non va a Tom? Non so come si fa! Ho il progetto! Ecco! Ma è un castello! Casey, come farò a farlo? Non preoccuparti, Tom ha la planimetria, guarda! Cosa? La planimetria? Il castello dei sogni di Casey? Cosa? Quando l'hai fatta? Ho un sacco di problemi! Wow! Sei così intelligente per essere una bambina in nove anni! Lo so! E adesso mettiamoci al lavoro! Secondo il progetto, questo va qui! Hai finito? Non ancora! Se Casey è alta come un nano, allora non deve essere così alto! Hai già finito? Smetti la Casey! Proviamo! Come il Dottor Strange! Piano, piano e piano! Adesso! Idea! Tom, tieni questo! Senta, ma l'ha appena ribidita, Casey! Voglio solo provare questo fuoco d'artificio! Possiamo accendere un fuoco nella stanza! Un fuoco per il tuo castello? Cosa? Non è necessario! Ah, funziona! Non per il mio castello, stupidone! Per i miei marshmallows! Sei un po' troppo intelligente, Casey! Ma non è una buona idea! Ragazzi, andiamo a fuoco! Per fortuna ho questo estintone! Grazie, mamma! I miei marshmallows! Hai rinforzato la mia felpa! Ora siete al sicuro e prego! Finiamolo! Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare! Spero che questo muro possa tenerla lontana! Ah, quando sarà finito, Casey sarà felice e io avrò un po' di pace! È facile con le misurazioni dei nani! Wow! Sono un costruttore! Wow! Sono una principessa! Au! Ok, principessa! È ora di dipingere il tuo castello! Sediti lì e non muoverti! Sì, dipingiamo! Potremmo farlo di rosa, rosa! Mmm, che sorpresa! Ok! Cosa ne pensi, Casey? Anche l'arancione ha un bel colore! Anche l'arancione ha un bel colore! Fatto! E adesso? Non lo so! Che ne dici di un bel verde brillante? Faresti meglio di essere sicura questa volta! Il bel verde servisce di più allo stile dei nani! Fatto! Forse il rosa era meglio! Oppure forse anche il verde! Ti odio! Lo farò rosa! Preparati, Casey! Ami il rosa! Cos'hai fatto, Tom? Casey? Non l'avevo visto che eri lì! Hai distrutto il mio... Lo adoro! Figliamolo! Crediamo sarebbe stato molto più difficile! Wow! Wow! Figo! Cosa? Perché non riesco a sentire nulla? Casey? Tom ha una ragazza e ha inviato delle foto ridicole! Cosa stai facendo? Metti giù il mio telefono! Con te ho chiuso! Vieni! Ho bisogno di fare una pausa! Metti questo e divertiti! Wow! È così reale! Posso rilassarmi un po'? Sì! Prendi questo! Attenta! Il vaso della mamma! No! È al sicuro! Stimulazione di donto! Sì! No! La pianta! Le braccia si muovono! Riflessi felini! Puoi stare più attenta, Casey? Casey, mi stai ascoltando? Balla, balla! Oh! Che c'è? No! La mia RV! Tutti i miei risparmi! Forse riesco a prenderla! No! Oh no! Mi dispiace, Tom! Ti dispiace? Che cosa hai fatto, Casey? Rovini sempre tutto! Vieni con me! No! Chiamerò mamma! No! Attendi qui! Cosa stai facendo? Prendi questo! Wow! Te ce l'avo! Bene! E non disturbarmi più! Perfetto! La trappola anti-Casey! Trappola? Dov'è andata? Vado a vedere nell'altra stazza! Che diavolo! Casey! Stai bene, Tom? Credo! Casey! Il gelato! Casey! Ups! Tom! Tom! Apri la porta! Voglio vedere com'è il mio castello! Ah! Adesso finirò il castello! Wow! Mattoni viola! Perfetto! Molto meglio senza Casey che disturba! Fatto! Tom! Apri la stanza! Te ne pentirai! Ah! Ho finito! Grandi finestre sofisticate per il piccolo demone! Una bella porta lucida da cui entrare e non uscire più! E le piante per uno stile più eco! Devo trovare Casey! Lo adorerà! Si spaventerà a morte! Casey, dove sei? Il tuo castello è finito! Casey? Io sono qui! Smetti di giocare, Casey! Ti mostro il castello! Casey! Aiuto! Cosa? Casey! Casey! No! C'è cascato! E ora per il colpo finale! Aiuto, Tom! No, Casey! Ho appena finito il tuo castello! Ci sei toccato! Il mio castello è finito! Dai, piccolo demone! Allora, Casey, cosa ne pensi? Penso che potrei essere bravo a costruire case! Sì! Quindi? Non lo so! Non è come il mio progetto! Manca qualcosa! So io cosa manca! Tommy, c'è solo un piccolo problema! Cosa? Dov'è lo scivolo? Non ne hai bisogno! Ho bisogno di uno scivolo! Ho bisogno di uno scivolo! Ho bisogno di uno scivolo adesso! Casey, te l'ho detto! Non ti serve uno scivolo! Lo dirò alla base! Casey, mettila di piangere! Dove posso trovare uno scivolo? Oh, io so dove puoi trovarne uno! Gratis! C'è un nuovo modo per guadagnare soldi! Dove? Ecco! Il suo giardino! Ma è rubale, Casey! Fallo! Ok! Quei tiktoker guadagnano un giorno quanto io guadagno in un anno! Adesso! Devi stare lì, Casey! È stato facile! Va bene, scivolo! Ora avrai una nuova casa! Spiacente! Sono stato costretto! Se ha delle sorelle, capirà! Eccolo che arriva! È ora di scappare! Un biglietto? Non mi piacciono le torte! Dov'è il mio scivolo? Mi spiace! Corri, chiesi più veloce! Ci serve solo questo pezzo! Avrò uno scivolo! Venite qui! È uno scherzo! Il mio scivolo! Tanto sono troppo vecchio per gli scivoli! Finalmente a casa! Povero me! È stato divertente! Facciamolo di nuovo! Ed ecco il tuo scivolo! Ho finito! Wow! Fermati! E adesso? Possiamo fare un tea party al nuovissimo castello? Per favore, Tommy! Per favore! Una tazza di tè è fatta in casa! Oh! Hai visto il mio giardino? Ho delle carotte fatte in casa per il tè! No, grazie! Oh! Guarda loro! Devo andare! No! Tom! La festa non è finita! No! Dovrei prepararmi per una vera festa! Ma voglio giocare con te! Troviamo qualcosa per impressionare Roxy! Dov'è il mio... Casey? Posso venire alla tua festa? Tommy, per favore! No! Non ti porterò da nessuna parte! Tom, porta tua sorella alla festa! Ok, mamma! Faresti meglio essere pronta in cinque minuti! Oh, la mia giacca fortunata! Bene! Vestirsi in un solo minuto! E ora sono pronto! Ciao, bello! Come sei carino! Wow! Voglio provare! Il mio vestito fortunato! È ora di andare! Oh! Aia! Casey, stai bene? Tom, sono pronta! Andiamo alla festa! Ok, non c'è tempo per cambiarti! Andiamo! Sì! Ehi, ragazzi! Ti presenti i miei amici! Ehi! Prendi questo! Ciao, 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 ciao! Sono famosa, sì! Oh, Casey, hai rovinato il mio TikTok! Sciocchina! Sì, Casey, hai rovinato il nostro TikTok! Sciocchina! Ehi! Solo io posso fare il bullo con mia sorella! Oh, sei così maleducato! Casey! Ciao, Tom! Ciao, Roxy! Resta qui, Casey! Devo fare una cosa! Ciao! Ehi, Roxy! Sì, Tom? Bella festa, Roxy! Vuoi ballare con me? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto! Sì, voglio ballare con te! Oh, balli bellissimo! Tom! Tommy! Tom! Puoi darmi un minuto con mia sorella? Va bene, vado a prendere qualcosa da bere! Che vuoi? Devo fare la pipì! Proprio adesso? Sì! Bene! Sbrigati! Tom! Dove è andato? Voglio ballare! Alle sorelle! Dov'è, Roxy? Facciamo festa! Sì! Il mio tesoro! Sei bellissima oggi! Va bene! Sì! Grazie! Tom! Quel diavolo! Roxy! Se tu sei qui, chi? Ciao, Tom! Che sei tu? Roxy! È stato solo un malinteso! Malinteso? Ecco il tuo malinteso! Come hai potuto confonderla con me? E non tornare mai più a casa mia! Ciao, Roxy! È stata una festa molto divertente! Hai! Ho sbagliato tutto! E adesso? Vuoi ancora dare una festa, Tommy? Ci divertiamo così tante insieme! Sì! Questa festa è molto meglio! Ottimo tè, Chiesi! Grazie! Finalmente posso fare casino! Giochiamo, sovella? Non mi va! Ti faccio vedere! Che cosa è successo? Non entrare nella mia parte! Cosa? Il blu è mio! Cosa? Eccoci qua! Sistemiamoci così! Rimani lì! Rimani lì! Una stanza segreta? Chiesi! Perfetto! Wow! Posso fare di meglio! Sono un genio! Rifrescate! Il tocco finale! Che buon profumo! Oh, oh! Casey! Oh, oh! Oh, oh! Oh, no! La mia casa si sta sciogliendo! Deve essere delizioso! Grazie, mamma! Aspetta! Posso fare tutto ciò che voglio? I miei preferiti! Orsetti gommosi! Popcorn! Prosciutto cotto! Salsa segreta! Serve questo, poi questo e un po' di patatine! Il tocco finale! Perfetto! Buonissimo! Buonissimo! Che buon odore! Che buon odore! Tom le tende! Luci spente! Attenuti al piano! Sarà fatto! Ciao! Ma chi è? Ciao! Non è abbastanza! Ciao! Ciao! Non muoverti! Pizza! Grazie! Wow! Wow! Dalla mamma! Oh! Scongeliamola! Che cosa mi avete fatto? Io mi licenzio! Così buono! Sì! È mia! Levati! Perdente! Vuoi combattere? Sono cavoli tuoi! Oh! Ok! Come ti fai? Sinistra! Destra! Troppo facile! E ora l'attacco finale! Ho visto qualcosa Accetta la sconfitta Qual è? Forse questo? Fermati! Questo! Non credo No! No! Cosa sta succedendo? Si è rimpicciolita! La mamma ci ucciderà! Che cosa? Entriamo nello stanzo, sì! Oh, sì! Wow! È così! Guarda! Di qualcosa come farebbe papà! Ehi, ragazzi! Benvenuti nel mio garage! Guardate che cosa ho! Cos'è questo? Un capolavoro! Amico! Amico! Facciamo di sgamare! Sì! Facciamo presto! Ma che strano! Possiamo vedervi? Finalmente! Finalmente! Vai, 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 vai! Veloce! Sì! Tom! Aiuto! Cosa? Aiuto! Che... Che succede? Io non riesco a raggiungerla! Sul serio? Dammi, dammi! Oh, grazie! Mi è costato un livello! Ehi, Tom! Che c'è? Casey! Stai bene? Di nuovo? Ma stai scherzando! Non posso raggiungerla! Casey! Vallenta, sorella! Tom! Tom! Cosa? Delle caramelle, per favore! Ti fanno vedere io! Tom! Tom! Aiuto! Che c'è? Per favore! Tom! Casey! Ce la posso fare! Pippo! Non è divertente! Buonanotte, mamma! Buonanotte, ragazzi! Sì! Sì! Puoi sapostare svegli tutta la mattina! Sì! Oh, no! Casey! Che c'è? Casey! L'ho vista di nuovo! Casey! Fammi controllare. Non c'è nessuno qui. Che, 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 sì. Scopriamo chi è. Ok. Non sei spaventoso. So che sei qui. So che sei qui. Ti farò vedere io. Sei così spaventoso. So che non sei qui. Devo prepararmi per questo. Tom? Casey? Diamo un'occhiata al garage. Sì. Mamma? Mamma! Oh, tesoria. Mamma, c'è qualcuno dentro casa nostra? Chi? Mi occuperò io di lui. Ragazzi, stop qui. Aspettate. Mamma, sei attento? Signor Stevenson? Signor Stevenson? Oh, dimenticavo. Il nostro vicino. Ciao, ragazzi. Salve, signor Stevenson. Alla fine, i nostri fiori. Che fine settimana. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.